bene amici di solo dettagli in questo nuovo video vorrei annunciarvi una delle novità del 2019 come vedete tra le mani ho una bottiglia di un nostro prodotto sta cambiando tutto vediamo insieme le caratteristiche di questo nuovo packaging ci abbiamo lavorato tanto tra le novità abbiamo un nuovo flacone delle nuove bottiglie abbiamo cambiato il materiale adesso bianco lucido più morbido vedremo nel limite del possibile di mantenere questo formato da un punto di vista estetico una delle più grandi novità riguarda lo spruzzino l'erogatore alcuni si erano lamentati del mini trig poca quantità i prodotti in gel venivano nebulizzati male abbiamo deciso di tagliare la testa al toro abbiamo montato un erogatore professionale come vedete qui abbiamo un erogatore vela uno dei più famosi più resistenti più duratori spruzzini chiamo impropriamente spruzzini ma sarebbe erogatori sul mercato durano davvero tanto pur non essendo classificati tra gli erogatori che hanno una resistenza chimica ai solventi eccetera sono i tra gli erogatori che hanno un ottimo rapporto qualità prezzo e li vendiamo anche nel nostro shop separatamente tra l'altro come vedete in tinta nei colori della nuova etichetta rosso e come erogatore professionale ha la possibilità di regolare il getto quindi tutto aperto il getto lo spara dritto se chiudiamo la ghiera anteriore abbiamo un getto più nebulizzato quindi più distribuito in questo modo riusciremo a spruzzare meglio prodotti più densi come ad esempio il bloody rims il gloss boost e altri che arriveranno diciamo che da un punto di vista estetico non è tutto perché passiamo all'etichetta qui c'è stato fatto un grande lavoro e un sentito ringraziamento deve andare a marco mascellini di marcomascellini.it che ha fatto un grande lavoro sia sul logo aziendale che è stato rivisto per il 2019 ma anche in questo in questa etichetta c'è davvero uno studio approfondito cominciamo dalla parte sinistra come vedete qui a sinistra abbiamo una breve descrizione su come si utilizza il prodotto nella parte inferiore troviamo la parte della sicurezza tutto adeguato a norma di legge del 2019 siamo tra le pochissime aziende che si sono adeguate in questo provate a confrontarle con i prodotti più blasonati che arrivano dall'estero molti non sono affatto a norma noi ci siamo impegnati nell'affrontare una lunga serie di adempimenti che riguardano anche l'istituto superiore della sanità e altri quindi nella scheda prodotto troverete ovviamente poi le schede di sicurezza eccetera come ci arrivate alla scheda prodotto abbiamo messo il qr quindi scansionate semplicemente col vostro cellulare e arriverete direttamente alla pagina del prodotto con le istruzioni più approfondite ovviamente nella parte anteriore trovate il nome del prodotto tutto con l'estetica aggiornata e qui c'è un numerino lo vedete in questo caso il gloss boost è un es2 perché ovviamente il nome del prodotto non cambia si chiama gloss boost rimarrà gloss boost però fa parte di un ciclo più grande più ampio abbiamo voluto creare una sorta di tabella ovviamente ne saprete di più più avanti quando i prodotti aumenteranno e questo è il numero 2 dei passaggi riguardanti la protezione nel caso del lavaggio ci saranno altre lettere altri numeri più avanti vi sarà più chiaro quello che è il ciclo completo quello che ci immaginiamo possa essere il ciclo ideale per il cliente bene ragazzi come avete visto c'è tanto lavoro dietro i nostri prodotti nei prossimi giorni andranno in produzione le etichette nuove le bottiglie nuove qualcuno ha già ricevuto qualche anteprima e questo è tutto se avete altre domande scriveteci fate mi piace su questo video condividetelo e arrivederci al prossimo video grazie a tutti